Oltre 4.500 i cosmetici sequestrati perché ritenuti altamente pericolosi per la salute. Così si è conclusa una maxi-operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Arezzo che ha raggiunto anche l'Emilia Romagna e il Lazio. L'indagine era infatti partita dalla Toscana quando in un negozio del centro storico di Montevarchi le fiamme gialle avevano scoperto cosmetici pericolosi contenenti idrichinone, sostanza chimica vietata in tutta l'Unione Europea. Da lì i finanzieri sono riusciti a risalire all'intera filiera commerciale dei prodotti arrivando fuori dai confini regionali in Lazio e in Emilia Romagna. Le perquisizioni effettuate dai militari in tre capannoni tra Roma e Reggio Emilia hanno così portato al sequestro di 4.630 cosmetici definiti come altamente dannosi per la salute. Le vendite venivano effettuate anche online attraverso negozi virtuali. A esito dell'indagine, oltre al sequestro, è scattata anche la denuncia nei confronti dell'amministratore di una società per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti.